Ciao a tutti ragazzi, come è promesso in questo video speciale parleremo di Arobrin. I reti spopolano miti e leggende su questo misterioso player, che alcuni dicono essere lo spirito del fratello morto di Notch. Altri pensano che sia una sorta di virus, un contenuto inserito apposta a chissà da chi per impressionare i ragazzi. Altri ancora pensano che sia solo uno scherzo ben architettato, un falso che ha preso piede e si è diffuso in rete. Ma oggi non voglio parlarvi di questo, perché alla fine sono solo ipotesi e congetture, in assenza di prove certe. Se Arobrin è un falso, in che modo è stato creato? Ci sono le incongruenze nella storia originale? Ed è proprio questo che voglio cercare di fare in questo video. Voglio analizzare la primissima apparizione di Arobrin e cercare di capire se ci sono evidenze di un falso nella prima immagine, che mostra un vecchio screenshot della versione alpha 1.0.16, quando ancora nessuno conosceva il nome Arobrin. Ma cominciamo dall'inizio e vediamo insieme il testo del messaggio che accompagnava la foto. Il video che vedrete è una ricostruzione che ho fatto proprio con la stessa versione del gioco, mentre il testo è la traduzione del posto originale dell'utente che per comodità chiameremo Jack. Recentemente ho creato un nuovo mondo in single player. Tutto era normale all'inizio e ho cominciato a tagliare alberi e a craftare un banco da lavoro. Ho notato qualcosa a muoversi nella nebbia. Ho un pc molto lento, quindi devo giocare con una distanza di render molto bassa. Ho pensato che fosse una mucca, così l'ho rincorsa nella speranza di procurarmi un po' di pelli per l'armatura. Non si trattava di una mucca. Intento a fissarmi, c'era un altro giocatore, con la skin di default, ma i suoi occhi erano vuoti. Non ho visto nessun nome sul PG e ho controllato due volte per essere sicuro che non fossi in multiplayer. Non rimase a lungo, mi fissò e fuggì velocemente nella nebbia. L'ho seguito, per curiosità, ma era sparito. Ho continuato con il gioco, incerto su cosa pensare. Via via che proseguivo nella partita, vedevo cose che mi sembrava impossibile che fossero state generate automaticamente dal gioco. Tunnel di due cubi per due, scavati nella roccia, piccole perfette piramide fatti di sabbia nell'oceano e foreste di alberi con le foglie tagliate. Continuavo ad avere il presentimento che avrei visto da un momento all'altro il secondo giocatore avvolto nella nebbia, ma non l'ho più rivisto. Ho provato anche ad aumentare la mia distanza di rendering a lontano ogni volta che mi sembrava di vedere qualcosa, ma nulla da fare, non ho più rivisto quel giocatore. Jack racconta poi di aver pubblicato la sua strana esperienza sul forum ufficiale di Minecraft, ma il suo post sarebbe stato cancellato da un amministratore e avrebbe ricevuto un messaggio con scritto stop, come dire smettila, da parte di un certo aerobrine. In seguito sarebbe stato contattato da un gruppo di utenti che avevano avuto esperienze simili con il misterioso aerobrine e sarebbe stato lo stesso Notch a confermare con un breve messaggio che quello era il nickname di suo fratello che però era ormai morto. Notch avrebbe poi pubblicamente smentito di avere mai avuto un fratello e avrebbe assicurato che non esisteva nessun aerobrine all'interno del gioco. Questa in breve è la storia di come aerobrine è apparso per la prima volta. Alcuni pensano che si sia trattato solo di uno dei tanti easter egg presenti in Minecraft ed in effetti alla Mojang hanno uno strano senso dell'umorismo e nonostante abbiano più volte ribadito che non esiste, continuano ancora ad alimentare il mito, inserendo in ogni nuova patch note la dicitura removed aerobrine, cioè rimasso aerobrine. Ed anche in alcune immagini ufficiali del gioco, guardando bene, si può intravedere quello che è chiaramente un personaggio con gli occhi vuoti, identico a aerobrine. D'altronde la Mojang non è nuova ai creepypasta, basta pensare che gli Enderman che sono nel gioco sono largamente ispirati ad uno dei famosi creepypasta, ossia Slenderman, una misteriosa figura molto alta in giacca e cravatta, con le braccia molto lunghe e senza volto, che rapirebbe i bambini nei parchi gioco. Possiamo quindi pensare che aerobrine fosse effettivamente presente all'interno del gioco? Effettivamente, fin dalle primissime versioni di Minecraft esistevano vari personaggi che, anche se non erano incontrabili durante una normale partita, erano comunque presenti nel codice del gioco e potevano essere spawnati semplicemente con dei trucchi. Questi personaggi sono stati poi rimossi, ma in rete si trovano molte informazioni a riguardo. L'esempio di quattro mob di nome Rana, Steve, Black Steve e Beast Boy, che erano già presenti nelle primissime versioni del gioco. Questi personaggi però erano incompleti, mancavano di animazioni e non erano in grado di fare nulla se non muoversi avanti e indietro. Ma c'è un altro mob che era servito come test e che, guarda caso, utilizzava proprio la skin di default del personaggio. Questo mob, che dapprima era conosciuto come Human, cioè umano, era poi stato rinominato Monster. Aveva la skin identica al personaggio giocabile di Minecraft ed era già presente nella versione classic del gioco. Questo PG non era in grado di interagire con i blocchi, come si dice che sia capace di fare Aerobrine, ma la sua intelligenza era più avanzata rispetto alle altre prove degli sviluppatori. Era infatti in grado di seguire il giocatore e di attaccarlo. Anche Human è stato tolto dal gioco, ma a differenza di Rana, Black Steve e compagni, il suo codice è rimasto intatto addirittura fino alla beta 1.6 e poteva essere spawnato via codici nei server multiplayer. Quindi Human era effettivamente presente nel gioco quando Aerobrine è stato avvistato. Alcuni pensano che sia proprio questo il mob a cui Notch voleva riferirsi scrivendo Removed Aerobrine. Il mistero sembrerebbe quindi svelato, Aerobrine non era altro che Human e forse nella nebbia il nostro Jack ha confuso gli occhi normali della skin per degli occhi vuoti, bianchi. Quanto ai tunnel scavati nella roccia e alle piramidi di sabbia, sappiamo che il sistema di generazione del mondo era molto meno preciso nell'alpha rispetto ad ora e poteva aver generato cose che, al player magari già impressionato dalla prima apparizione, sarebbero potute sembrare creazioni di un secondo giocatore. Tutto sembrava dunque coincidere e questa storia sembrava essere la più probabile, sempre che il giocatore non si fosse inventato tutto. Ma per capire veramente cosa può essere successo e se ci sono appunto indizi che possano chiarire una volta per tutte se Aerobrine e Human sono la stessa cosa, l'unico modo era provare a riprodurre quel primo incontro, a rifare cioè uno screenshot simile al primo con quella stessa versione del gioco e valutare le differenze. Ma la cosa non è molto semplice, perché le foto che girano su internet non sono l'originale, ma delle copie in bassa qualità sgranate. Ed è lo stesso algoritmo utilizzato per comprimerle che può aver creato dei falsi artefatti sulla foto. Ad esempio, se guardiamo la figura, possiamo vedere dei pixel sgranati e sembra quasi che il personaggio sia senza braccia, ma questo è appunto un difetto tipico del formato JPEG che tende a fondere insieme i colori simili, come ad esempio in questo caso il marrone delle braccia con quello della terra. Occorre quindi un occhio allenato per capire cosa è causato dalla normale compressione e cosa non lo è. Sicuramente state pensando perché fare una foto in bassa qualità e perché farne solo una invece di 4 o 5. Non c'è da stupirsi della qualità della foto, perché ancora in quella versione non era stata implementata la funzione per fare screenshot direttamente nel gioco. Era necessario quindi premere stamp sulla tastiera e mettere in pausa il gioco e copiare il tutto in un programma di grafica. Sono riuscita a procurarmi la versione 1.0.16. Quella che vedete è una ricostruzione. La sagoma di Aerobrine è stata ottenuta modificando la skin di una porta. Questo mi permette di posizionare la figurina dove voglio e di avere uno scatto molto simile all'originale. Poi ho compresso il tutto proprio come è caduto a chi ha realizzato l'originale. La prima cosa che ho cercato di capire è se erano presenti degli elementi che potevano far pensare a un'immagine ritoccata con Photoshop. Aerobrine è ad una distanza di circa 22-25 blocchi da Jack. La nebbia inoltre è perfettamente compatibile con la distanza tiny, minuscola, di quella versione del gioco. Inoltre il personaggio è proporzionato in maniera corretta, non è né troppo grande né troppo piccolo. E l'effetto appunto è quello di un personaggio nascosto tra la nebbia. E sarebbe davvero difficile da riprodurre con Photoshop, perché non è sufficiente metterlo in trasparenza o aumentare la luminosità del soggetto. Il risultato sarebbe diverso. Certo, non dico che è impossibile che questa foto sia stata ritoccata, ma occorrerebbe comunque qualcuno con un po' di esperienza con Photoshop, oltre che una cura maniacale del dettaglio che non avrebbe motivo di essere. Non dimentichiamoci che nessuno conosceva Aerobrine, e nessuno si sarebbe messo ad analizzare con attenzione la foto. Per questo penso che se questa foto è un fake, comunque non è stata ritoccata. Sarebbe stato molto più semplice cambiare la schiena ad una porta, proprio come ho fatto io. Una volta che avevo escluso questa prima ipotesi, mi sono dedicata all'aspetto di Aerobrine. Secondo la teoria che Human fosse Aerobrine, gli occhi di Aerobrine dovrebbero essere quelli di una skin normale. Fin dai primi tentativi, però, una cosa è stata evidente. Aerobrine doveva avere per forza gli occhi completamente bianchi. Infatti, mettendo della semplice skin di Steve, gli occhi apparivano sempre imprecisi e sgranati. L'unica possibile soluzione era proprio quella che Aerobrine avesse gli occhi bianchi, come Jack diceva. Dunque, Aerobrine e Human non erano la stessa cosa. Confesso che non sapevo più cosa pensare, ma da scettica ho continuato ad analizzare la foto alla ricerca di altri indizi. Un'altra cosa che ho notato è che il modo in cui viene di solito rappresentato Aerobrine, con un sorriso o un pizzetto, sinceramente non ho mai capito cosa sia, non è corretta. Nella versione alfa, infatti, Steve non aveva il pizzetto, ma una semplice bocca dritta. Questo io non lo sapevo, lo sono venuta a scoprire proprio leggendo su internet, dopo aver notato la differenza in questa foto. Questa potrà sembrarvi una cosa di poco conto, ma è comunque una riprova che le differenze che notiamo sono reali e che anche se la foto originale è sgranata, i nostri risultati sono comunque attendibili. Riassumendo, possiamo dire che la foto non sembra essere ritoccata con Photoshop e non si tratta neppure di un mob presente nel codice del gioco, come Human. Le uniche possibilità che quindi rimangono sono che si tratti di un contenuto volutamente inserito nel gioco da Jack stesso, come un oggetto con la skin cambiata o una mod, oppure che si tratti di un vero fenomeno paranormale. Una cosa in particolare mi sembra strana, il personaggio dice di aver scambiato il giocatore per una mucca. Non dimentichiamo che, anche se questa foto si vede male, il suo originale si vedeva sicuramente molto meglio, ed è difficile pensare che qualcuno possa scambiarlo per una mucca. Come vedete, non hanno davvero niente di simile. Ma c'era un'altra cosa che non mi convinceva dell'immagine. Ci ho voluto un po' per rendermi conto di che cosa fosse, poi ho capito. Era la testa di Aerobrine. Sembra infatti che la sua testa sia infostata nel collo, quasi penzolante, come quella di un personaggio ripreso dal basso, ma Aerobrine si trova chiaramente più in alto rispetto al giocatore. Perché Jack non ha riferito questo dettaglio? Si tratta forse di una cosa che nella coincitazione del momento non ha notato neppure lui? E se fosse invece una cosa fatta apposta per rendere il fake più simile ad uno zombie, perché non scriverlo nel post? E perché architettare una cosa così complicata per poi dire non l'ho più rivisto? Voglio dire, se io mettersi su uno scherzo del genere, sicuramente mi inventerai almeno 3 o 4 avvistamenti e cercherai di aggiungere ogni volta nuovi dettagli per rendere il tutto più vero e simile. Qui la mia indagine si è fermata, almeno per il momento. Ero partita cercando conferme, ma in realtà sono riuscita solo a trovare altre domande. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto qualche spunto sul quale magari poter fare qualcosa insieme. Se avete idee, curiosità o semplicemente cose da correggere su quello che ho detto, fatemelo sapere ed eventualmente farò un secondo video con altre cose che dovessero venire fuori. Da Rui e da Erobrin è tutto, ciao e buon Halloween!